Vi manca questa musica? Vi manca questa bicicletta rossa? E soprattutto vi manca questo sorriso a 3000 denti? Anche a noi. Mentre all'istituto lavoriamo e i nuovi episodi, la Fornace TV vi ripropone l'intera prima imperdibile stagione. Tot Matteo. La prima stagione. Tutti i giorni, dalle 12 e 20 ed in seconda serata, dopo i film della Fornace. Solo su, la Fornace TV. La Fornace TV, sforniamo a grandi, momenti di televisione.